Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare una sfida abbastanza ovvia che richiede di entrare nel cavo del dominio di Doom. Il cavo si trova qui dove ho messo il segnalino. Dovete andare nel dominio di Doom. Io adesso sono in un server privato, in questo modo non ci sono altri giocatori e posso mostrarvi come fare la sfida. Dovete prima di tutto procurarvi le armi perché dovete eliminare Doom e come sapete Doom a volte è un rompiscatole. Quindi dovete eliminarlo, prendere la scheda e poi scendere giù qui dove c'è il cavo. Quindi adesso trovo delle armi, stano Doom, cerco di ucciderlo, prendo la scheda e apro il cavo. Detto così sembra molto semplice, però tenete presente che quando giocherete ovviamente ci saranno altri giocatori. Quindi io adesso sono su un server privato per mostrarvi la sfida, però naturalmente poi dovete competere anche con altri giocatori. Tenendo presente che ogni volta che c'è una sfida di questo tipo tutti si fiondano giustamente allo stesso punto, è abbastanza ovvio che ci saranno non pochi problemi questo giovedì. Quindi o la fate subito con la speranza che non vi siano troppi giocatori, oppure magari aspettate che si calmano un po' le acque e poi la fate. Perché in un server privato viene considerata la sfida completata quando la fate, ma poi quando uscite dalla partita la sfida è di nuovo lì. Quindi dovete farla per forza in singolo coppie o squadre, ma non rissa squadre. Vediamo se staniamo doom, se no eccolo qua, di solito sta qua, quindi nella villa. Vediamo se riusciamo ad ammazzarlo prima che lui ammazza me, anche se la vedo dura sinceramente. Fa male, fa molto male. Se lo riesco ad ammazzare, ok perfetto, mi curo. Aspetto un attimo che le fiamme finiscono perché altrimenti muoio. C'è anche della cura, intanto mi metto lo scudo. Ok, allora. La scheda dovrebbe essere qui, eccola infatti. Ecco qua la scheda. Le fiamme non si spengono, quindi andiamo a curarci altrove. Ora che avete la scheda, praticamente dovete raggiungere il cavo che è di sotto. Vedete, se voi vi equipaggiate con la scheda, sapete dove andare. Adesso mi cerco un medikit perché altrimenti giù ci sono gli scagnozzi di doom e poi crepo. E quindi ho fatto la sfida inutilmente. Se non erro ecco qua, quindi ci curiamo un attimo e poi andiamo ad aprire il cavo. Ok, prendiamo il potere di doom. Questo è quello farlocco perché non è la sfera che scaglio contro, diciamo, i nemici. Però va bene, pazienza insomma. Lì ci sono due nemici, quindi dovete ammazzarli, altrimenti non vi permettono di aprire il cavo. Ecco qua, perfetto. Molto semplice, con il potere di doom fate subito, alla fine. Perfetto. Ora che avete la scheda, venite qua. Aprite il cavo. Entrate nel cavo appena si apre. E la sfida è completata.